Daniele Romualdi per Celendo Channel, mi trovo qui a Cannalonga in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia Beata Vergine e Martire. Ecco allora l'ultimo capo testo, quello per cui noi abbiamo scelto Lucia come nostro eseguire, il riconoscere, cioè il testimoniare Gesù. Ci hanno dato proprio la soddisfazione di partecipare grazie a Umberto di Romualdi che lui ci ha dato proprio il menage di tutta la festa. Quindi abbiamo fatto porta a porta, però la gente ancora ce li danno perché non l'abbiamo trovata a casa, però comunque partecipa tutto il paese veramente. La gente partecipa sempre attivamente, sia quando c'è attivamente, con vede a tutte le occasioni che si presentano nella parrocchia, nelle varie festività eccetera. In modo particolare, oltre alla Madonna del Carmine e al nostro prodotto, con Santa Lucia. Santa Lucia, l'ho ricordato anche il nostro parco durante l'Omeria, risale a tempi remotissimi. Già nel 1400 si organizzava una fiera, sempre a dicembre, in località Piano d'Ordia, su terreni di proprietà della chiesa, la cosiddetta fiera di Santa Lucia, che poi è stata spostata a settembre. Grazie. Grazie.